Ciao a tutti legionari, sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Empire Total War nella nostra meravigliosa campagna con la Svezia. Ferro dal ghiaccio legionari, bentornati, vi ringrazio per i commenti e non preoccupatevi, farò adorare questa campagna comunque ancora un po' di episodi e saranno belli intensi, spero che vi piaceranno naturalmente, ma avete consigliato di accettare gli scambi tecnologici, ma sinceramente non mi sembrano avere senso anche perché mi chiedono tecnologie più avanzate per tecnologie che posso fare relativamente in poco tempo, quindi direi che passiamo alla cosa e guardate qua tutti sti agenti turchi, ma vi fate i cavoli vostri ragazzi, cioè Uppsala, non è che è diventata l'università mondiale, è l'università svedese, caspita, non è che potete venire qui a rubarmi le tecnologie, cioè non hanno ancora creato le Nazioni Unite, sfortunatamente, oh, gli mancava la Finlandia, è vero, è vero, però vale di più la Finlandia della Lituania? Wow, è archissima la Finlandia, non me lo ricordavo, non me lo ricordavo, in ogni caso mi avete chiesto quali sono i progetti dopo la caduta della Russia che, speriamo, speriamo dovrebbe avvenire abbastanza breve. Il progetto qual è? È invadere la Prussia e, molto bene, no, rivolta dei lavoratori in Polonia, dannati, dannati, però non sembrano voler rompere troppo le balle, dicevo, è dichiarare guerra alla Prussia e considerando che, considerando che la Prussia è alleata con, mamma mia, ho visto altro e ho detto no, è alleata con la Spagna, la Francia e la Russia, in base, in base al fatto che entri in guerra o Spagna o Francia, potrebbe scattare una marea svedese, nel senso potrei decidere di sbarcare qua e di prendermi Farigi, buonanotte, di prendermi Parigi o di sbarcare qui e prendermi Madrid. Essenzialmente sì, ragazzi, perché, perché sì, non c'è nessuna altra ragione se entrano in guerra o firmano una pace istantanea ed entrano in guerra solo così tanto però, se no, niente. In ogni caso siamo molto vicini alle condizioni di vittoria, poi magari comunque anche se le raggiungo faccio qualche video in più, però, lo dico, siamo vicini alle condizioni di vittoria che avevo messo per questa campagna e sono molto 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 felice di questo, naturalmente. Ok, tra l'altro dovrò anche cominciare a crearmi nuovi eserciti perché, diciamolo, non posso non avere eserciti in questa zona, quindi molto probabilmente adesso qua a... oh mio Dio, aiutatemi, qua a Varsavia comincerò a costruire un nuovo esercito che andrà a pattugliare questo fronte. Poi probabilmente ne andrò a fare un altro a Kiev, sì, lo so, ragazzi, ci costeranno un po' di soldi, ma adesso ne guadagniamo decisamente di più, fra un po' riusciremo a tassare tutti, Polonia inclusa, e ce lo potremmo permettere, sarà anche indispensabile averli, perché non averli potrebbe significare dolori, decisamente. In ogni caso, allora, uniamo questo esercito a questo. Cosa vi manca a voi? A voi vi manca fanteria, e l'abbiamo visto molto molto chiaramente. Quindi vi do tutta la fanteria, cavalleria abbunda, abbunda, ok, quindi questo esercito è full. L'altro esercito è costituito prevalentemente da cavalleria, quindi fatemi fare un'altra cosina. Questi qua, questi li spostiamo qua, e quando arriveranno i rinforzi, ragazzi, saranno tutti di cavalleria, e sarà un'ottima cosa, sarà un'ottima cosa. Tra l'altro penso che sia giunto il momento di attaccare i russi, e li attaccheremo qua fuori città, direi che sia la mossa più saggia, oserei dire. Ok, adesso fatemi un attimo controllare velocemente i vari eserciti che abbiamo, perché tipo, questi cicci qua non penso che saranno in grave pericolo contro questi, però li teniamo ancora un turno, e stessa cosa vale per questi. Poi, poi chi abbiamo? Ok, questi. Questo esercito qua, ok, di pattuglia. Scusate se io li guardo, ma sinceramente non mi ricordo quale esercito è dove, e da chi è comandato. Proprio non ce lo faccio fisicamente ricordarmelo. Allora, questi qua li abbiamo a Varsavia, ma non mi serviranno più a niente. Mi servivano giusto per... Però fammi controllare. Ok, non si ribellano. Quindi questa schifosissima milizia la posso mandare al diavolo. Sì, grazie. Non mi servi più, non mi servi più. Dove eravamo? Questo qui, questo qui. Ok, questo è l'esercito qua sotto. Che tra l'altro non ha un generale, me ne sono accorto solo ora. Qua in Estonia, siamo messi bene? Sì, non si ribellano neanche se tolgo questi qua, quindi... Wow, wow. E l'unica cosa che mi chiedo adesso è... Cosa molto importante. Ci sarà qualche insediamento che mi sono dimenticato di costruire? Penso di no, dovrei averli fatti tutti. Però in ogni caso dovrò andare a controllare, naturalmente. Un'altra cosa molto importante che voglio andare a fare è continuare ad ampliare questa flotta. Lo so, avevo detto che ne facevo solo una, ma ho cambiato idea. Mi dispiace. Ma comunque considerate che andrò piano piano perché voglio fare un po' di 5th grade. Quindi ci vorrà un po' di tempo prima di riuscire a farle qualche turno, perlomeno. Ne faccio semplicemente due e gli altri nostri soldi li utilizzo, se magari lo seleziono, per migliorare, continuare a migliorare le infrastrutture che voglio che raggiungano in tutti i nostri territori il massimo dello splendore, come si fa al dire. Ok, questi ultimi soldi rimasti poi li utilizzerò per rinvigorire leggermente questo esercito qua sotto. E direi che ci buttiamo sul campo di battaglia. Non attacco la città, ragazzi. Attacco questo esercito qua, prima di tutto. Oddio, in realtà però se cade la città cade anche... Cioè, quell'esercito scompare, ma avete detto. Quindi, no. Attacchiamo la città. E andiamo. Ok, ragazzuoli, eccoci qua sul campo di battaglia. E ditemelo sinceramente, ma voi sapevate che questa... Questa zona è così brulla? Miseria, sembra di essere in Medio Oriente. Beh, oddio, ci siamo abbastanza vicini. Me ne rendo conto. Però non pensavo che fosse così questa zona. E non è un insulto o niente. È una semplice constatazione. Pensavo fosse clima più temperato alla zona, pur essendo dove è situata. Stiamo cominciando a sparare con il cannone. Un'unità di cavalleria l'ho tenuta, o meglio, l'atterrò di riserva. Voi cominciate a farmi una mossa veloce così. Dovremmo superare decisamente i russi in numero. E non so da dove arrivano i loro rinforzi, però. A quanto pare arrivano da, da, da. E non sto dicendo sì, sì, sì. Da qui in fondo. Ah, eccola qua. C'è della cavalleria, molto bene. Qua c'è dell'altra cavalleria e sono davvero tantini. Ah, tra l'altro noi stiamo bombardando la cavalleria. Ah, interessante. Questo è molto interessante. Fanteria, fermarsi. Fermarsi. Cavalleria, caricone. Perfetto. Artiglieria, per l'amor del cielo. Spara l'afanteria. In modo da non stendermi tutti i soldati, che penso che sarebbe abbastanza tragica come cosa. Ok. Voi adesso potete avanzare ancora un pochino. Se riesco a selezionarvi, magari, è cosa buona e giusta. Ok. Mi fate una bella corsetta fino a qui, però voi venite allo scontro con le cavallerie. E voi, invece, vi andate a piazzare qua. Mi raccomando, sempre correndo. Non battete la fianca, ragazzuoli. Qua ci siamo. Sono quasi tutte in posizione. Voi cercate di non finire nel raggio dei cannoni, perché, se no, come l'ultima volta ci sarebbe da piangere. Potete... potete correre. Lo preferisco, sinceramente. Un movimento un po' veloce. E, miseria, non riuscivo a premere il tasto sinistro. Cosa c'è qua dietro? Guardate il corpo del generale. Ucciderlo, di sicuro, ci può portare solo benefici. Questi qua sono arrivati. Sono quasi a contatto con i russi. Io direi... avanzate ancora un po', così vi mettete dietro il muretto. Qua come sta andando lo scontro? Sembra bene. I russi sono quasi in fuga. Ah, stavo per dire dove la nostra cavalleria sul fianco destro è lì. Giusto. Giusto. Alessio, pensa prima di parlare. Prima di parlare, pensa. Non so che canzone era, ma non importa, non importa. Cannoni. Fuoco qua, mi raccomando. Cavalleria. Ah, questa qua. Questi qua sembrano voler buttarsi nel mezzo. Va bene, dai. Correte di nuovo. Wow. I nostri cannoni stanno facendo davvero, davvero male. Ok, se continua così, quali riusciremo ad accerchiare? Ah, cavalleria nemica, cavalleria nemica. Allora. Li caricate subito. Ma sì, senti. Quest'unità di infanteria, se affezionate i cavalieri, li vuole proteggere a tutti i costi. Quindi, andate anche voi. Tanto, la raggiungerete per secondi, naturalmente. Quindi, va bene così. Va bene così. Voi fate così. Voi potreste avanzare ancora un pochino. Magari voi qua sul fianco. Fate una cosa tipo questa. Voi continuate a sparare a questi qua. Non dovreste colpire nessuno dei nostri, teoricamente. Voi non siete a tiro, quindi avanzate ancora un pochino. E stessa cosa vale per voi. Qua c'è la guardia del corpo del generale. Attaccatela di prepotenza. Perfetto. Voi, una volta che vi siete occupati di questi, andrete a fare la stessa cosa. Ah, e qua c'è la fanteria. Ok. Interessante. Avanzare ancora, ragazzi. Cannoni, fuoco a volontà qui. Ok, penso di avercelo fatto. Qua il generale è quasi in fuga, anche perché è morto, tra l'altro, il loro generale nemico. Infatti, il generale nemico è ucciso. Qua ci sono delle altre unità che stanno arrivando a rompere le balle. E, dato che queste non mi servono eccessivamente, io direi che possono cominciare a ripiazzarsi lì. Perché l'accerchiamento non è necessario. Non è necessario. Porca miseria, mi è scappata un'unità. No buono. No buono, ok. Voi buttatevi qui. Qua i russi ormai sono praticamente in rotta tutti. Voi continuate il bombardamento qui. Allora, guarda. Voi mi controllate che i russi non tornino a rompere le balle piazzandovi così. Voi, invece, cominciate a spostarvi qui e andrete a dare manforte ai nostri uomini qua contro i russi che stanno arrivando, naturalmente. Buia! Malissimo, ragazzi. Che fighe che sono le nostre umidità. I nostri svedesi però, devo dire che, secondo me, sono un po' allibiti. Dicono, ma dove cavolo ci stai mandando a combattere? Fa troppo galdo qui. Noi siamo abituati, non dico alla steppa, però siamo abituati al frescolino della nostra carissima Svezia e tu ci mandi a combattere in deserti? Ma sei fuori? Che ci starebbe? Non farebbe una piega come commento da parte loro? Vediamo se ci ammazzano i nostri. Vacca Eva. Signori, cercate di fare il fuoco un po' più lontano. Cioè, vedete di non ammazzare i nostri, per l'amore del cielo. Tipo qua, bravi, bravi. Ottima mossa. Voi andate a piazzare un po' più avanti. Oddio, in realtà, stanno venendo loro in linea di tiro, quindi forse non è neanche necessario. Voi andate a dare un po' di manforte qui. C'è scappata un'altra unità di cavalleria. Cioè, le due unità che erano qua sono scappate tutte e due. Vabbè, andate a dare manforte a questa cavalleria contro i fanti lì. Qua ce la dovremmo fare abbastanza tranquillamente, sperando che i nostri cannoni non facciano stragi dei nostri, come ho già detto. Sembrano abbastanza precisi, a patto che noi non superiamo di troppo questa zona. Cioè, questa. Qua il nemico è a contatto. Un'unità di cavalleria sembra voler accerchiare i nostri uomini. Mandiamo questi in supporto. Voi direi che dovreste cominciare a correre. Anche voi. Perfetto. Qua stiamo resistendo bene con i russi. Qua stanno per cedere. Là si sono messi in formazione a quadrato. Formazione a quadrato anche voi, signori. Perfetto. Perfetto. Voi spostatevi un pochino in modo da non intralciare questi qua che si stanno difendendo dalla cavalleria russa. Anzi, uno di voi magari ce lo mando anche a dare supporto. Voi invece continuate ad affrontare quelli che sono lì. Qua abbiamo un'unità di fanteria che vorrei che si spostasse qui. Questa cavalleria sarebbe importante che mi mandi in fuga quest'unità qua. Voi vorrei che avanzaste fino a qui. Magari facciamo una linea di fronte più amplia. Voi dove diavolo state andando ragazzi. Ah, queste sono le nostre nuove unità di cavalleria. E facciamo che venite qua anche voi. Voi andate a spostare invece qua dietro. No, solo voi due. Qui, perfetto. Bravi, correre ancora un pochino. Ci siamo quasi. Qua abbiamo raggiunto la fanteria russa. Molto bene. Voi per l'amore del cielo correte. È importante che lo facciate. Qua abbiamo mandato i russi in fuga, a quanto pare. E allora. E allora. Voi vi ripiazzate normalmente e la cavalleria invece torna indietro un pochino che poi si unirà alla restante cavalleria da questa parte per andare ad attaccare il nostro nemico sul fianco destro. Sul fianco sinistro ci penserà questa cavalleria qua sempre che non si faccia massacrare naturalmente da questi. Cosa che non è da escludere. Quindi manderei magari questi qua in supporto. Voi vi farei andare un po' più avanti. Ah, niente. Niente, niente. Qua ci stanno mandando in fuga. Ho sbagliato io. Chiedo venia. Chiedo venia. Allora facciamo così. Riposizionatevi normalmente. No. Riposizionatevi normalmente. Cannoni. Continuate a sparare qua contro i russi. Perfetto. Qua non sembrano avere molta speranza contro di noi. Se questi qua vanno sul fianco e riescono a prendermi queste alle spalle sarebbe una gran cosa. Questi qua se tutto va bene prendono i russi sul lato. E questi li prendono dalle spalle. Questa qua è un'unità di cavalleria che si è ripresa. Grandissimi. Siete i migliori. Siete i migliori e vorrei che andaste qua. Qui. Vabbè. Avete afferrato il concetto. Avete afferrato il concetto e tanto basta. Anzi. Andate ancora un po' in qui prima di fare qualsiasi attacco. Là i russi sono in fuga. Molto bene. Dai che ce la facciamo ragazzi. Dai che ce la facciamo. Questa qua cos'è? Cavalleria? Ah no. Questa qua è... Uh è cavalleria rossa. Posizione signori. Voi aiutatela. Che mica avevo visto io. Se li vedo prima magari li aiutavo prima. Riposizionatevi. In linea. No. Cavalleria. Attaccare qui. Di prepotenza. Cavalleria attaccare qui di prepotenza. Voi andate a dare manforte qua alla cavalleria. Qua i russi sono quasi del tutto in fuga. Ma ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. Non dico semplicemente ma quasi. Quasi. Oh mio dio ragazzi. Battaglia lunga però ve la volevo far vedere. Ve la vorrei far vedere tutta. O quasi. Dato che è l'ultima grande battaglia con i russi. Possiamo dire. Perché se perdono questa. Direi che riusciremo a vincerla. Se la perdono. Loro saranno finiti. Non avranno più niente da fare. Nel senso. L'ultima città sarà caduta. E salvo grandi ribellioni. Saranno fregati. Voi signore. Mi togliete la formazione a quadrato. Però che mi sta altamente sulle balle. Se dovete sparare all'affanteria. Voi mi fate una carica. Cattiva proprio. Dei russi qui. Non inseguiteli nemmeno. Perché tanto non serve. Voi buttatevi nel mucchio. Che suona una cosa molto sessuale. Ma non lo era. Qua abbiamo finito. Ripiegato appena. E la battaglia dovrebbe essere vinta. Adesso non appena mappare il... Guardate. Mi sto già gasando. È già vinto tutto. Ah Mizzica. Ma qua no. Qua no. Scusatemi. Scusatemi. Mea culpa. Mea culpa. Pensavo che questi russi fossero scappati. E invece no. E invece no. E anche qua stanno tornando. Ma cosa pensate di fare? Non penserete mica di vincere a questa battaglia. Eh. Voglio dire. Voglio dire no. Dai andatemi a prendere questi. E finiamo questa storia una volta e per sempre. Voi cannoni. Direi che stoppate il fuoco. Non vorrei... Oddio vabbè che se continuate a colpire... A cercare di colpire quelli non c'è nessun problema. L'importante è che non ha ammazzati i nostri. Perché sono ben capaci di farlo. L'abbiamo visto più e più volte. Qua sfortunatamente la nostra cavalleria si è fatta mandare al diavolo. Vabbè. Speriamo che quest'altro reparto riesca a farcela. E gli mandiamo anche questi in supporto. Quindi voglio dire. Ce lo dovrebbero fare abbastanza facilmente. Russi sono... Sono orgoglioso di voi. Penso che il vostro generale sarebbe orgoglioso di voi. E per la tenace resistenza che state offrendo alla mia cavalleria. Cavalleria superala. Superli. E poi ributtati su di loro. Mi piace un sacco fare queste mosse. Superarli e poi tornare indietro. Sì. Più o meno. Più o meno. Sono finiti. Sono finiti o ce ne sono ancora? Olè. Vittoria eroica. È certo. Allora legionari. Le perdite sono state considerevoli. Perché 1400 uomini nostri se ne sono andati. Abbiamo perso anche un unità. Se vediamo qua. Ma il nemico ha perso 4000 uomini. Praticamente tutti. E non posso permettervi di continuare ad esistere. Però la vostra città o si arrende o si arrende. Non si arrendono. Eh che cavolo. Ci mancherebbe anche. Boom. Nazione distrutta. Russia. Una nazione è stata distrutta. E le sue regioni native sono cadute nelle mani del nemico. Una nazione una volta grande diventerà nulla più che un'impronta nella storia. C'è un'impronta. Footnot non è propriamente un'impronta ma è qualcosa del genere comunque. Non serve neanche che vi tolga la tassazione? No. A quanto pare no. Beh ragazzi. Comunque è caduta la Russia. Yeah. C'è da festeggiare. Da bere per tutti. Da bere per tutti. Ok. Adesso. Questi signori qua. Li porterei. A Kiev. Sinceramente. Qua volendo possiamo aspettare ancora un turno così almeno si ripristina anche questo esercito prima di attaccare San Pietroburgo e che questo sia abbastanza vicino. Qua dovremmo aver dato ordine a questi uomini di riprendersi. Non sono tanti quanti avrei sperato. Però vedremo da accontentarci. Scavi di Herculaneum. Ah giustamente è vero. È vero. È in questo periodo che sono stati fatti i primi scavi vicino al monte Vesuvio per la città di Herculaneum. Ho avuto un attimo di crisi tipo Herculaneum che? Ah e poi. Ah sì la città vicina a Pompei perché chi si caga Herculaneum quando c'è Pompei? Povera Herculaneum. Vabbè giustamente. Ha un suo perché. Ha un suo perché. Vediamo se siamo saliti in classifica perché dannazione. Niente. Facciamo schifo. Schifo. Rispetto agli altri. Probabilmente siamo rimasti indietro dal punto di vista tecnologico che so. E no Cracovia è danneggiata. Ma quando è successo? Ah già le rivolte. Le rivolte. Porca Eva. Porca 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 Eva. Allora facciamo così. Riparami questo. Mi inizia che è 2002. 2002. Va bene. Allora cominceremo dopo ad adorare un esercito qui. Ripara. E passiamo a questo turno. Allora abbiamo fatto una tecnologia militare. Perfetto. Che è una di quelle navali. La teoria cinetica dei gas. Ok. Nuova città è emersa a Smolensk. Smolensk si trova in Moscovia. Dato che non sono particolarmente felici in Moscovia. Io gli faccio una coaching in. Che gli aumenta la felicità. E tra l'altro permette la possibilità. Aumenta la possibilità di reclutare agenti. Qua gli agenti ve l'avevo già detto. Mi sembra è diverso dagli altri Mortal War. Non li ha ruoli. Ma sono casuali. Se no adesso come adesso. Avrei spammato un sacco di agenti qua sopra. E questi dannati qua. Non sarebbero più lì. Naturalmente. Però non posso farlo. Quindi niente. Niente. Ok. Allora. Cosa facciamo innanzitutto? Dovremmo riparare le città anche ragazzi. È una cosa molto importante. Non posso assolutamente permettere. Che rimangano in quelle condizioni. Allora. Qua cominciamo a fare. Due di. Teglieria. Tra l'altro. Non so. No 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 no. Scusate. Non. Non ha senso che io ruoli la cavalleria qua sotto. Non ha assolutamente senso. Perché gli sposto quella che ho. Giù giù a sud. Questa qui. Questa qui. La andrò a spostare. In Polonia. Mentre questo esercito qua. Che. Qua sinceramente. Secondo me. Non ha. Una grande utilità. Anche perché da questa parte non c'è niente. Qua sì. Per l'amor del cielo. Ci sono. Cos'è. Appunto. Cos'è. Il Dagestan. La Georgia. Comunque. Questi staterelli qua. Che. Non mi turbano particolarmente. Anche perché. O li faccio diventare protettorati. O. O lo sono già di qualcun altro. Fatemi vedere un attimo. Allora. Spagna. Commerceresti con me. O mi mandi al diavolo un'altra volta. Mi manda al diavolo un'altra volta. Ma. Siete proprio brutti e cattivi. Mamma mia. Spagnoli. Mamma mia. Che. Che caratteraccio. E anche gli italiani. Ma. Oh. E c'è il Dagestan anche. C'è il Dagestan. Richiedi. No. Ho sbagliato. Io ho chiesto l'alleanza militare. Allora. Oh. Sì. Hanno accettato il commercio. Almeno quello. Offri omaggio di stato. Ok. Io ho mandato. Io ho mandato un tributo. E adesso vediamo se diventano un mio protettorato. Mi hanno detto no. Vabbè. Però almeno ci commerciamo. Sono in buoni rapporti con noi. Quindi. Siamo abbastanza sicuri che questo fronte è tranquillo. Per quanto riguarda la Georgia farei la stessa cosa. Ma no. Preferisco tenermi quei soldi. Per rimettere in sesto le nostre unità. Anche perché. Anche perché. È arrivato il grande giorno. È arrivato il grande giorno. No. In realtà non è ancora arrivato. Perché. Questi qua. Non riuscirebbero ad arrivare. A San Pietroburgo. Quindi no. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Almeno questi qua si riprendono del tutto. Speriamo che qua non si stiano reclutando. Perché sennò. È tragica come cosa. No. Non lo stanno facendo. E ciò è bene. Ciò è bene. Allora. Questo signorino può andarsene. Voi due in realtà. Cioè. Potrei anche spostarvi. Spostarvi qui. Magari riuscite a dare. Dare supporto a quelle unità. Dai facciamo così. Non. Non vi faccio sparire. Non ancora perlomeno. Potreste. Avere ancora un'utilità. La flotta è qui. Perfetto. La maggior parte della nostra flotta. Naturalmente. Ok. Continuiamo il processo di. Come si può dire. Di costruzione delle infrastrutture. Ecco. E tra l'altro dovremo anche riparare. In città come Varsavia. Ma anche in altre. Gli edifici che sono danneggiati. Però dato che costano tanto. E a parte il reclutamento. Non portano immediati vantaggi. Lo facciamo successivamente. Dico non portano immediati vantaggi. Perché tipo. Questi mi permetterebbero. Di arruolare. Cannoni. E questo qua è per la ricerca navale. Mi sembra. Sì. Infatti. Quindi. Boh. Al limite quello dei cannoni. Al prossimo turno. Se no. Non mi servono eccessivamente. Ok. Fatemi vedere se è cambiato qualcosa qui. Queste sono le condizioni di vittoria. No. Sinceramente. Non capisco perché il nostro punteggio sia così basso in tutti gli altri. Forse perché la nostra ricerca è stata molto. Molto basilare. Possiamo dire. Dai facciamo così. So che me ne pentirò. Ma. 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 Metterei. Farei queste due ricerche. Governo per consenso. E utilitarianismo. Che. È una filosofia. Possiamo chiamarla economica. Un po' del cazzo. Sinceramente. Un po' del cazzo. Dico perché. È quella in cui. Tutte le definizioni sono date per il loro scopo pratico. Tipo. Cos'è un cavallo. Un cavallo non è un bel animale. Qua. La sua e giù. Come lo potrebbe definire. Mettiamola così. Di uno scrittore. È una bestia. Dotata di quattro zampe. Ha un tot di denti. Questa è la filosofia. Utilitarianista. Sempre che si dica così in italiano. Scusate ma. Me la son persa la parola. Arrivi tardi Prussia. Arrivi davvero molto tardi. No. Io non te l'accetto l'alleanza militare. Mi dissiace. Ti devo. Ti devo far sparire. Giuro che non è niente di personale. E te l'ho nata la Norvegia. Ho detto. No dai. La Finlandia è troppo ricca. Ma contento della Norvegia. Ah beh. Allora. Ok. Eccoci qua. Abbiamo fatto. Un'altra tecnologia militare. Naval Shore Facilities. Oh. Agente reclutato. Ma che bellezza. Me l'ha reclutato un po' in. In sedere al mondo. Per non dire. Per non dire. Brutte paroline. E allora. Ci metterai. 20 millenni. Però. Comincia ad andare verso. Che so. Vilnius. Almeno verso qualcosa di interessante. Lavoratori in shopperi in Polonia. Certo che avete rotto anche un po' le balle. Eh voi polacchi. Cioè. Con tutto l'affetto che posso avere per i miei umili sottoposti. Ma caspita. Continuano. Continuano a rompere. Facciamo così. Vi riparo. Questa. E questa. Tra l'altro siamo pieni di soldi da fare schifo ragazzi. Ed è una cosa bellissima. È una cosa bellissima. Davvero. 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 E la costruzione delle infrastrutture però viene rimandata un secondo. Perché prima faccio gli attacchi. Ripristino gli eserciti una volta che gli attacchi saranno conclusi. E poi vedremo. Quanta gente c'è qua. Secondo me potrebbero anche arrendersi. Sono molto 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 curioso di vedere cosa faranno naturalmente gli alleati prussiani. Un'altra cosa che voglio fare però ragazzi è questo. Ovvero. Italiani. Dai. Io vi voglio. Vi voglio bene. Va voglio bene. Dono da 2005. Eh. Faccio notare. 2005. Mica. Certo che siete. Sanguisughe. Va bene. Abbiamo accettato il commercio con. Con gli italiani. Vediamo quanto mi fruttate. Per il momento siete stati un investimento da 4.400. Uno dei nostri commerci è bloccato. Quello con le province unite. Stati italiani. In 2005. In qualche turno ci potremmo rifare. Quindi. Onesto. Voglio dire. Onesto. 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 Spagna. Potrei fare la stessa cosa con voi. Però prima vediamo se entrati in guerra con me. Tra l'altro. Preannuncio una cosa. Scusate. Lo stavo per fare. Preannuncio una cosa. Non sarebbe divertente. Se. Dovessi invadere la Francia. Se non altro perché perderei 2004 di introito. Però adesso vediamo cosa succede. Prascia. Dicchiara guerra. Chiedi aiuto ai tuoi alleati. Ah tra l'altro io sono alleato con la Francia. Se io non li chiamo. Molto probabilmente. E però io li chiamo. Più che altro perché sennò non mi chiama Novere Danimarca. La Prussia ha rotto l'alleanza con la Francia. E la Spagna è entrata con la Prussia. I francesi però hanno deciso di non seguirmi. Vabbè. Lo posso capire francesi. Lo posso capire. E va bene così. E adesso sono in guerra naturalmente anche con la Spagna. Ok. E' interessante. E' interessante. E' molto interessante. Questo esercituzzo qua. Lo vado a spostare qua. Adesso scopriamo. Sopriamo che c'è un esercito della Misiria nascosto qua dietro. Mi prendo male. Ok. No. Non c'era. Non c'era. Ci mancherebbe altro. Va rendete? No. Non si arrendono. Però. Cioè. Battaglia automatica. Voglio dire. Erano quattro gatti. E infatti abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo occupato la città. E. Ci ripristiniamo tutto. Adesso. Regione catturata. Comi. Perfetto. Adesso. 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 Andiamo a portare le nostre truppe a San Pietroburgo. Naturalmente. A chi faccio guidare l'attacco? A questo generale qua. Perché è il generale a 5 stelle. Che ormai invasò mezzo mondo per la Svezia. E avrai tu l'onore. Va rendete? No. Non si arrendono. Ragazzi. Si può fare in automatico? Chiudiamo gli occhi? Uh. Ho temuto. E San Pietroburgo è caduta. Ah. Che bello ragazzi. Che bello. Andiamo a riparare un po' tutto. Anzi. Innanzitutto questi due. E andiamo a ripristinare l'esercito. Che costerà un altro patrimonio. No. Non è costato un patrimonio. Incredibile ma vero. Incredibile ma vero. Ok. Abbiamo ripreso anche qua. e adesso se non sbaglio per raggiungere il nostro scopo mi manca solo una regione. Ovvero Brandeburgo. E c'è da sperare che non la invada i miei alleati. Perché sennò potrebbe essere alquanto tragica come cosa. Quindi. Carissima la mia flotta. Adesso tu ti vai a spostare qua. Farei imbarcare uno di questi eserciti. E me lo vieni a portare. Facciamo che porti questi. Facciamo che porti questi. Ok. Si sono imbarcati. Mio Dio che è la gattina. I. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Niente. La flotta è un po' buggata eh. No 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 lì. Vabbè. Vabbè. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Vi mettete vicini vicini. E legionari. Io adesso vi saluto. Spero sinceramente che l'episodio vi sia piaciuto. Ormai abbiamo con Wast out al mondo praticamente. Cioè. No. Non abbiamo conquistato il mondo. Però abbiamo un impero enorme. Di cui possiamo essere davvero fieri. Spero sinceramente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto. Come al solito. Lasciate qua sotto un bel mi piace. E iscrivetevi se non siete iscritti. Ci vediamo nel prossimo episodio. In cui attaccheremo. Stavo per dire attatteremo. Attaccheremo Berlino. E se Berlino cadrà ragazzi. Lo scopo della nostra campagna sarà completo. Ma in ogni caso vedremo se riusciremo anche a fregare un po' gli spagnoli e anche i mughal. Una visita ragazzi non gliela toglie nessuno eh. Lo dico. Ave a tutti legionari. A presto.